La protesta espressa con il Boston Tea Party ebbe conseguenze disastrose. Il re d'Inghilterra, Giorgio III, non solo non accolse le richieste dei coloni, ma proibì loro di estendere i loro territori al di là dei Monti Appalaci, cioè della catena montuosa che corre parallela alla costa atlantica. Inoltre inviò delle truppe per punire i ribelli. Siamo nel 1775, la data che segna l'inizio della rivoluzione di indipendenza delle colonie americane. L'esercito che i coloni americani organizzeranno sarà un esercito per modo di dire e verrà affiancato dai famosi volontari, cioè cittadini spesso senza nessuna preparazione militare, che però erano animati da un grande spirito patriottico. Certo, l'impresa si presentava difficile, anche perché di fronte c'era uno degli eserciti più forti a quell'epoca dell'Europa. Ma proprio questa difficoltà ha contribuito a far nascere l'idea della grande volontà e del grande amore per la propria patria degli americani. Questo è un dipinto che è stato fatto il secolo dopo la guerra, ma che racchiude nei suoi simboli proprio lo spirito di quel combattimento. Tutti hanno partecipato, dai ragazzini alle persone anziane. Mentre i combattimenti in modo molto violento infuriavano in tutto il territorio, a Filadelfia i rappresentanti delle 13 colonie si riunirono e il 4 luglio del 1776 approvavano, firmavano la dichiarazione di indipendenza, scritta da Thomas Jefferson insieme a un gruppo di collaboratori. D'altra parte, non a caso, il 4 luglio è proprio la festa nazionale degli Stati Uniti d'America. La dichiarazione di indipendenza è un documento importantissimo. Intanto che cosa contiene? Beh, allora, contiene ovviamente la dichiarazione di indipendenza, cioè dell'avvenuta libertà di queste colonie. Ma poi anche un elenco molto accurato, molto preciso di accuse che vengono rivolte a Re Giorgio, responsabile di aver portato la situazione fino a questo punto. E poi, forse cosa ancora più importante, viene fatto riferimento in modo molto chiaro a quelli che sono i principi su cui si basa un buon governo, che sono quei diritti che hai già avuto modo di conoscere in precedenza. Questa è una frase tolta dall'inizio della dichiarazione di indipendenza. Non è necessario che tu traduca tutto dall'inglese, però se ci fai caso, ci sono alcune parole facilmente traducibili che attirano subito la nostra attenzione e sono diritti inalienabili, vita, libertà, felicità. Cioè, in pratica, che cosa si dice in questa frase? Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per sé stesse evidenti. Che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal loro creatore di alcuni diritti inalienabili, che fra questi ci sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Prova a riflettere un attimo dove hai già trovato queste idee. Qualche anno prima, dagli illuministi francesi. Per la prima volta, quello che in Francia rimaneva ancora un desiderio e una teoria, qui veniva addirittura scritto in un documento politico. La guerra intanto andava avanti. Andava avanti in modo anche molto violento. Anche Thomas Jefferson trovò la morte in questa guerra. Ma le truppe guidate da Washington e soprattutto grazie al sostegno di tutta la popolazione, in questo dipinto si vedono due filatrici che avevano tessuto la bandiera e che viene offerta proprio al generale Washington. Come puoi notare, la bandiera in origine aveva solo 13 stelle perché venivano rappresentate le prime 13 coloni. Quindi grazie, dicevo, all'appoggio, al sostegno di tutta la popolazione, ad un certo punto l'esercito dei coloni americani otterrà delle vittorie decisive. Noi ne ricordiamo due in particolare. Allora, una a Saratoga nel 1777. Questa sarà una vittoria importante perché sarà un po' l'evento che spingerà i francesi a rompere gli indugi e a mandare uomini e rifornimenti in America per aiutare i volontari. Teniamo conto che la Francia qualche anno prima era uscita sconfitta dalla guerra dei sette anni contro l'Inghilterra e quindi questo per lei era un po' un motivo di vendetta, di rivalsa nei confronti dell'eterna nemica inglese. La vittoria invece decisiva, quella che diede proprio una svolta alle sorti della guerra, fu a Yorktown in Virginia nel 1781. sembra quasi un segno del destino, la Virginia fu la prima colonia inglese e quella dove adesso invece si sono decise le sorti della guerra. Allora, era chiaro ormai che la guerra stava volgendo al termine e stava volgendo al termine con la vittoria dei coloni americani, anzi degli ex coloni americani. Effettivamente la pace fu firmata nel 1783 a Versailles. Qui puoi vedere una parte del documento originale e la targa che ancora oggi c'è che ricorda l'avvenimento storico. Una curiosità, come sempre accadeva a quell'epoca gli avvenimenti importanti venivano poi ricordati non essendoci ancora la fotografia attraverso dei dipinti e dei ritratti e questo era quello che si pensava di fare anche per la firma del Trattato di Pace. In realtà questo dipinto che rappresenta la delegazione che andò a Versailles a firmare il Trattato di Pace è rimasto incompiuto perché il delegato inglese si rifiutò di essere ritratto insieme agli americani e quindi il dipinto è rimasto incompiuto. Questa è una curiosità che dimostra comunque come l'Inghilterra avesse mal digerito una sconfitta che probabilmente non aveva messo in conto.